METTO LE CUFFIE Siamo in onda, tocca a Daniela e il cerchio risponda. METTO LE CUFFIE, PREMO IL BOTTONE, SONO GIÀ PRONTA PER LA TRASMISSIONE, CERCA IL SEGNALE, PRONTI VIA! RADIO FUTURE, VEMME IN COMPANIA! Sintonizzati, siamo in onda, tocca a Michele e il cerchio risponda. METTO LE CUFFIE, PREMO IL BOTTONE, SONO GIÀ PRONTO PER LA TRASMISSIONE, CERCA IL SEGNALE, PRONTI VIA! RADIO FUTURE, VEMME IN COMPANIA! Sintonizzati, siamo in onda, tocca a Serena e il cerchio risponda. METTO LE CUFFIE, PREMO IL BOTTONE, SONO GIÀ PRONTO PER LA TRASMISSIONE, CERCA IL SEGNALE, PRONTI VIA! RADIO FUTURE, VEMME IN COMPANIA! METTO LE CUFFIE, PREMO IL IBO DA? RADIO FUTURE, VEMME IN COMPANIA! Grazie a tutti.